La signora Angela Di Sciascio ha compiuto 90 anni, ha ricevuto tanti regali, i soldi che ha ricevuto per questo prestigioso traguardo, li ha devoluti al reparto di oncoematologia dell'ospedale di Pescara. Un bel gesto signora? Era l'unico modo, perché data la mia età, che cosa devo fare? Indumenti, regali, la casa è piena, quindi potevo soffrire solo i bambini. E ha pensato proprio al reparto di oncoematologia, a questi bambini che soffrono, che lottano? Sì, perché la televisione mi fa sempre, si fanno vedere molto e fanno bene, almeno scuotano un po' i sentimenti, il cuore della gente. Oggi vediamo qui proprio alle nostre spalle tutto quello che è stato acquistato con i soldi che lei ha devoluto al reparto. Sì, pure dei lettini, non so che non ci sono, quello che hanno potuto soffrire, dell'esigua somma, non è che era una somma tanto elevata. E oggi c'è stata la consegna di questo materiale, in questa cerimonia lei si è emozionata, c'erano tutti i suoi parenti? Tanto, tanto, questa personalità di medici che con questo lavoro che fanno, gli danno un po' di vita ai bambini. Diciamo subito che questo è uno dei reparti di eccellenza dell'ospedale Spirito Santo di Pescara. Allora, il reparto di oncoematologia pediatrica di Pescara si occupa di tumori e malattie del sangue dei bambini. Ci lavoro io, la dottoressa Daniela Nofrillo e la dottoressa Antonella Sau e si occupa di tutte queste patologie che riguardano i bambini, di tutti i bambini che risiedono in Abruzzo e nel Molise. Questi gesti non sono importanti, sono fondamentali perché questi gesti aiutano i bambini e le loro famiglie ad affrontare questi periodi che sono dei periodi, diciamo, non facili. Questi gesti sono un modo per accompagnarli a dei momenti più tranquilli. Quindi se ci fossero tante angela di sciascia avremmo cambiato tante cose. Ma è un gesto importante perché è proprio soprattutto da esempio. Siamo riusciti ad acquistare in realtà tante cose. Siamo riusciti ad acquistare un lettino per le visite, due televisori che possono in qualche maniera alleviare l'adegenza dei bambini. Se vedete ci sono anche dei, diciamo, carrelli che servono per camminare per quei ragazzini e bimbi che non ce la fanno. La signora poi ci ha anche parlato, è vero, di queste cuffie termiche che aiutano a ridurre la caduta dei capelli nei bambini. Quindi insieme abbiamo deciso che comprare ma veramente sono tante le cose. Sono tante piccole cose che ne fanno una insieme grande. Grazie a tutti.